Grazie a tutti. Il ragionamento su vanguardia e grande guerra, il camouflage è uno dei momenti assolutamente cruciali perché l'uso pratico degli artisti durante la guerra è stato quello legato alla propaganda che abbiamo visto ieri e poi invece è legato proprio a operazioni belliche come quelle camouflage. Vedremo se negli atti potremo avere questo intervento. Adesso interviene Maurizio Scudiero che è un noto studioso del futurismo e curatore degli archivi di De Pero, Baldassari e Rali. Il futurismo è occupato in moltissimi modi realizzando anche delle grandi ed importanti mostre e oggi ci parlerà appunto dei futuristi. Va bene, cambio di registro. Siccome mancava qualcuno penso che la Scarelli poteva andare avanti perché era molto interessante. interessante, abbiamo un moderatore molto... Allora quello che non hai dato a lei me lo prendo io. Va bene, allora per non dare nulla per scontato partiamo dalle basi. Questo dalla guerra futurista o dei futuristi che vanno alla guerra è un dramma in cinque atti praticamente che si svolge qui. Ce lo svolgo io così. Ora partiamo con questa pagina che è la pagina delle Figaro di Parigi del 24 bairo del 1909 perché qui e non con le Demoiselle d'Avignon nasce l'idea di modernità del Novecento in quanto il cubismo non era un movimento ma era un gruppo di singolarità ma ecco il futurismo che abbiamo quello che si chiama un movimento d'avanguardia organizzato ma soprattutto progettuale. Cioè la differenza dove sta che non si ricerca l'ispirazione attaccati alle tende così o sul fiume romantico come gli impressionisti che si impressionavano come dice l'etimo e poi dipingevano. I futuristi sono programmatici, dicono prima quello che faranno dopo. Quindi questo è un cambio epocale nella storia dell'arte e segna veramente un nuovo modo cioè la preistoria di quello che oggi è il concettuale di fare arte. Quindi diciamo che... qual è? Quello rosso? Uno o due? Questo? Così, ecco. La mente di questa operazione è questo FT, Filippo Tommaso Marinetti che è il figlio di un facoltoso avvocato che vive in quel momento a Alessandria d'Egitto ma lui studia a Parigi e quindi la sua lingua madre anche essendo uno scrittore poeta è francese. Allora lui lancia questo manifesto e da qui in avanti per quanto riguarda il futurismo il manifesto non è il cartello da appendere al muro ma è un manifesto teorico quindi dei volantini fatti così, quattro pagine pieni di formulazioni. Il primo manifesto lo pubblica su un giornale non in Italia ma a Parigi in realtà era stato preceduto da alcune pubblicazioni più corte in Italia ma lo lancia a Parigi perché lì c'è il centro dell'art system. Allora se tu non facevi qualcosa a Parigi non esisteva e probabilmente se tu lo facevi fuori qualcuno a Parigi se ne impossessava e l'avrebbe fatto suo senza che nessuno avesse nulla da contestare. Allora diciamo che Marinetti capì subito che se voleva fare presa sulla gente doveva usare dei sistemi nuovi in pratica nuovi ma antichi, quelli dei cantastorie perché non erano solo le parole o la letteratura che potevano far presa sul grande pubblico ma erano le immagini e per questo motivo lui in questo primo manifesto raccoglie attorno a sé come firmatari un gruppo di giovani pittori in gran parte ancora sconosciuti cioè Boccioni, Carrà, Severini, Russolo e Coetani e uno un po' più anziano che era tra l'altro stato anche il maestro di Boccioni e di Severini e cioè Giacomo Balla. Ma questa è un'altra storia e la chiudiamo subito e partiamo per la tangente. Facciamo invece un passo indietro e andiamo a vedere cosa c'era scritto in questo manifesto che tanto scandalizzò i ben pensanti, le bourgeois parigini e anche italiani. Al punto 7 per entrare subito in argomento si legge che non vi è bellezza se non nella lotta e al punto 9 una delle frasi più incriminate noi vogliamo glorificare la guerra, solo ai geni del mondo, il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore, chissà come mai saranno belle queste idee, e il disprezzo della donna. Cioè qui ha messo molta carne al fuoco immediatamente. Ora non vi è dubbio che forse sono parole forti, specie nel 1909, dal momento che lo sono ancora oggi. e Marinetti precisò ulteriormente, vediamo qui mi sono perso un'immagine, eccola qua la fondazione e il manifesto del futurismo, qualche tempo dopo precisò ulteriormente in un manifesto nell'11, proprio sulla guerra, e le sue idee, e tuttavia nello specifico in quella situazione si trattava soprattutto di una provocazione questa, da prendere soprattutto in senso letterale, da non prendere in senso letterale ma piuttosto letterario. L'idea della guerra aveva in sé una sorta di fascino partegionetico, cioè nel senso che la guerra era intesa come un'analogia dell'azzeramento dei valori del passato, sul quale azzeramento si poteva poi costruire un futuro veramente tale, cioè libero da quei pesi, da quei gravami del passato, cioè una prefigurazione di quanto circa dieci anni dopo o più Alexei Gann avrebbe stilato nel suo manifesto del costruttivismo che appunto propugna l'azzeramento, anzi la distruzione di quanto esiste per costruire qualcosa di veramente nuovo. Il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore, poi non erano altro che corollari conseguenti nei quali si riconosceva anche una componente nicciana, soprattutto in quello slancio utopico del morire per delle belle idee. Allo stesso modo l'altra affermazione scandalosa, forse più oggi che allora, fu quella sul disprezzo della donna, che è sempre stata intesa in un'accezione generalista e onnicomprensiva. Basterebbe solo leggere il manifesto della donna futurista, eccolo qua, del XII, per capire e vedere poi anche quante donne sono state protagoniste e più titoli, pittura, letteratura e scultura, nel movimento futurista, e certo molto più che nella maggior parte delle altre avanguardie storiche, per comprendere subito che anche questa era una butade, una provocazione letteraria. In realtà Marinetti disprezzava non tanto la donna in quanto tale, anzi, vuol dire, fu un vero tomber de femme, perché se leggetti i diari di Marinetti aveva un'attività proprio cospicua, insomma, in questo settore, ma piuttosto l'idea e il ruolo della donna nella famiglia e nella società dell'epoca, quella donna circondata da pizzi e merletti, quella donna dai cappellini civettuoli, quella donna che faceva da angelo del focolare e della casa. Marinetti voleva una donna dinamica, una donna attiva su più fronti, una donna, insomma, futurista, che marciasse di pari passo con i futuristi verso il futuro. Questo è il motivo del disprezzo, non della donna, ma di quella donna, intesa dalla società di allora. Insomma, in poco tempo fu ben chiaro a tutti che il futurismo non era solo un movimento di rinnovamento artistico, ma piuttosto un nuovo elemento attivo propositivo che voleva inserirsi a più titoli nella società per rinnovarla e svecchiarla dal suo interno, quindi un movimento globale trasversale. Di fatto il futurismo in questa situazione a tutto campo divenne anche un soggetto politico ed una prima conferma si può avere leggendo alcuni passi dal primo manifesto politico del movimento futurista, che vi dispagno perché tanto è la solita immagine, uscito sempre nel 1909, in vista delle elezioni generali di quell'anno. Noi futuristi, dice Marinetti, avendo per unico programma politico l'orgoglio e l'energia e l'espansione nazionale, denunciamo al Paese l'incancellabile vergogna di una possibile vittoria clericale. Primo corollario, anticlericali. Allora, in questo assaggio, orgoglio e espansione nazionale sono qui due punti che vaticinano anche un'idea ben più vasta, quella dell'unità nazionale. E quindi, non dimentichiamo anche che sempre nel 9 Marinetti tiene un epico discorso al Politeama Rossetti di Trieste, dove afferma tra l'altro che noi esaltiamo il patriottismo, il militarismo, cantiamo la guerra, sole e gine del mondo, bagno di oreoismo, senza la quale le razze si addormentano, nell'egoismo acidioso, nell'arrivismo economico, nell'attaccagneria della mente e della volontà. Ora, se consideriamo che Trieste allora era in territorio austriaco e che in quegli anni vedeva crescere Trieste e anche a Trento un forte movimento irredentista, si può ben capire come quelle frasi di Marinetti fossero come un fiammifero gettato sulla benzina. E infatti, non pago, Marinetti lancia un nuovo proclama dedicato proprio a Trieste, che definisce nostra bella polveriera dove afferma risoluto a tutti i nostri romani antichi e tutti i nostri fiorentini medievali e tutti i nostri veneziani decaduti noi preferiamo gli abitanti di Trieste poiché la loro bella impazienza patriotica non tarderà, spero, a dar fuoco alle polveri. Trieste è tutta la nostra unica polveriera. Noi nutriamo nel nostro sangue il nostro principale odio di italiani del ventesimo secolo due punti l'odio per l'Austria e quello che dice Marinetti era vero in pratica perché come ha scritto e ribadito qualche decennio fa un attento studioso dei problemi di confine come Klaus Gatterer l'Italia cioè l'idea di Italia come stato unitario come sovranità nazionale è nata sin dal principio in quanto lotta contro l'Austria per cui è proprio nel DNA questa cosa e Marinetti non fa altro che metterla sul piatto una volta per tutte e da chiudere questo anno 1909 si può segnalare l'espulsione dall'Austria da un attento sempre più insofferente al dominio sborgico dell'allora corrispondente dell'Avanti Benito Mussolini accusato di esaltare nelle sue croniche il gruppo irredentista cambio geografico nel 1911 Marinetti interviene sulla questione libica abbiamo recentemente cazzottato con piacere nelle vie e nelle piazze i più febricitanti avversari della guerra gridando loro in faccia questi nostri saldi principi si è proclamato che la parola Italia deve dominare sulla parola libertà pericoloso si è cancellato il fastidioso ricordo della grandezza romana con una grandezza italiana cento volte maggiore insomma qui si capisce che Marinetti aveva un test a un preciso progetto che era quello di delineare via via un nuovo senso patriottico che non facesse più leva su glorie passate ma su uno spirito italico nuovo per il quale fosse insopportabile che anche un solo lembo di suolo nazionale fosse ancora occupato da una potenza straniera cioè l'Austria queste le premesse adesso siamo al secondo punto del dramma futurista è un intermezzo ma ci fa capire gli sviluppi anche della poetica futurista la guerra italo-turca le guerre balcaniche e le parole in libertà cosa c'entrano? c'entrano fra loro allora questa guerra italo-turca spesso nota anche come guerra di Libia deflagò per via delle ambizioni coloniali italiane che la spinsero l'Italia ad attaccare le province ottomane del nord Africa sbarcando a Tripoli il 28 settembre del 1911 si pensava che fosse una blitzkrieg anche questa e invece impegnò l'esercito italiano sino alla metà dell'ottobre del 1912 sebbene poco rilevante sullo scacchiere più vasto europeo questa guerra fu significativa per i tanti progressi tecnologici si è accennato anche ieri a questo fatto introdotti proprio dagli italiani innanzitutto il primo impiego in assoluto nella storia non solo di automobili e motociclette ma anche di aerei in totale furono impiegati novi avvelivoli usati all'inizio per scopi di ricognizione oltre le linee e di lì a poco anche di vera azione di guerra infatti ai primi di novembre del 1911 il pilota Giulio Gavotti lanciò a mano sulle truppe turche la prima piccola bomba aerea ce l'aveva in mano così di fatto registrando così il primo bombardamento aereo della storia non meno interessante infine sapere che anche per la prima volta in azioni belliche furono usati dei gas ma soprattutto un sistema di radiotelegrafia campale militare su larga scala che segnalava i movimenti di truppe spesso con la collaborazione in loco di Guglielmo Marconi allora in questo panorama Marinetti è inviato da un giornale francese e lui coglie subito le potenzialità tecnologiche di questa guerra tanto che lui titola le sue corrispondenze dal fronte come un battaglio moderne una cosa del tutto nuova insomma e fu un'esperienza altamente formativa soprattutto sul piano letterario questa sua presenza al fronte perché la sequenza dei suoi articoli fu poi ripubblicata ai primi del 12 in un fascicoletto titolato la battaglia dei Tripoli cioè che poi qui dice vissuta e cantata non dice che è un reportage quindi lui la canta anche in forma poetica questa battaglia dei Tripoli e poi fu appunto pubblicato in Italia vediamo se passa eccola qua e così portò anche in Italia la conoscenza di quei fatti che sono successi lì lui scrive degli estratti anche di queste cose vengono pubblicati sulla rivista italiana e ha un nuovo senso anche della sintassi cioè c'è un esempio ogni 5 secondi cannoni da sedio sventrare lo spazio con un accordo tam tum ammutinamento di 500 ecchi parazzannarlo sminuzzarlo sparpagliarlo all'infinito nel centro di quel tum spiaccicati di ampiezza 50 chilometri quadrati balzare scoppi tagli pugni batteria tiro rapido 20.000 schrapnels abbracciarsi esplodere fazzoletti bianchissimi piedi d'oro tum tum 20.000 granate zan tum zan tum tum l'orchestra l'orchestra dei rumori di guerra sotto una nota del silenzio nell'alto cielo pallone sferico dorato che sorveglia i tiri un testo innovativo che non solo per la presenza delle onomatopee e anche la grafia di questo testo interessante perché quando tu devi dire le cose con forza sono in grassetto e altrimenti sono in tondo normale ma è un testo che è anche senza punteggiatura se uno lo va a leggere e questo in un secchio al manifesto tecnico della letteratura futurista uscito nel 12 e la cui lettura lo vorrebbe associare alla ritmicità della mitragliatrice ma la ricaduta di quell'esperienza non si formò qui anzi pensò che forse anche la rigida gabbia tipografica dei libri aveva bisogno di un sano bombardamento che facesse esplodere le parole sulla pagina e questo è intuibile da alcuni passi del detto manifesto che lui va a applicare soprattutto nel libro Zantumtum pubblicato nel febbraio del 14 che dilata a dimensione libraria quel primo intervento che lui aveva pubblicato sulla rivista in Italia sulla CERBA ora come si può vedere qui la gabbia è rotta il titolo viaggia orizzontale diagonale e addirittura comprende anche la pagina la quarta di copertina questo è un esempio dell'interno questo è il famoso pallone che la cui figura viene delineata in pratica le parole divengono immagini quindi un modo tutto nuovo anche di esprimere le potenzialità del testo insomma si tratta di un libro innovativo autenticamente rivoluzionario e l'effettiva attuazione delle parole in libertà un libro che esce nel 14 ed è quasi un presagio a quanto da pochi mesi stava per capitare in tutta Europa quindi terzo atto del dramma la guerra la neutralità l'interventismo come sapete a Sarajevo il 28 giugno del 14 vengono uccisi i due rampolli della casa l'arciduca Fardinando austriaca e la moglie Sofia di uno studente serbo Gabrilo Princip membro dell'associazione ultranazionalista giovane Bosnia Mlada Bosna che mirava l'unificazione di tutti gli slavi del sud di qui il termine poi jugoslavi spara più volte uccidendoli entrambi allora questo fatto come si sa diviene il pretesto per l'Austria per una dichiarazione di guerra consegnata giusto un mese dopo dopo vari tentennamenti il 28 luglio del 14 per l'Italia fu in un certo senso una fortuna fra virgolette che fosse stata l'Austria dichiarare la guerra alla Serbia e non che la Serbia l'avesse dichiarata all'Austria perché in caso contrario i trattati di alleanza stretti appunto con Austria e Germania la triplice l'avrebbero costretta a entrare nel conflitto quindi per il momento si decise di mantenersi neutrali o per i futuristi questa neutralità è ritenuta una vergogna nazionale si intravede infatti la possibilità di dare corpo a una delle prime idee di Marinetti quando già a Trento nel 1910 aveva eseguito un lancio di manifesti che incitavano all'irredentismo e che erano stato appunto sequestrati ma poi ristampati a Milano con il titolo una prefazione irredentista di F.T. Marinetti sequestrata a Trento la cerba che è il giornale dei futuristi fiorentini comincia a prendere posizione e quello che è in edicola il 15 agosto del 14 no questo lasciamo ancora indietro il primo numero del 15 agosto del 14 è troppo ridosso no è il primo numero del primo agosto del 14 è troppo ridosso alle declarazioni di guerra ma nel quello del 15 agosto del 14 si riesce a infilare perlomeno la riproduzione di un'opera di Carrà questa festa patriotica un collage che ovviamente sulla cerba è in bianco nero l'editoriale che poi campeggia sulla copertina del numero di ferragosto del 15 eccolo qua che non è quello ma è quello sulla sinistra non so se si legge perché qui le immagini ma vi leggo un paio di passaggi è un vero e proprio manifesto dell'interventismo militante futurista se la guerra presente fosse soltanto politica ed economica noi pur non restando indifferenti ce ne saremmo occupati piuttosto alla lontana ma siccome questa è guerra non soltanto di fucili e di navi ma anche di cultura e di civiltà ci teniamo a prendere subito d'opposizione e a seguire gli avvenimenti con tutta l'anima seguivo un lungo articolo di Papini titolato il dovere dell'Italia di una durezza inusitata contro la decisione neutralista tanto che più parti del testo qui bisognava girare ma non l'ho fotografato risultavano censurate come i tempi dell'inquisizione e l'articolo di Papini metteva anche in luce gli aspetti positivi l'Italia se dichiarata neutrale scrive come primo espediente del momento la neutralità ha del buono ci ha staccati di fatto dalla triplice e ci permette di fare con più comodo grado a grado quella preparazione militare che tutti ritengono necessaria e che può preludere alla mobilitazione perché spiegava più avanti uno degli scopi primari dell'Italia dovrebbe essere il compimento dell'unità italiana all'attività di Lacerba che è a Firenze fanno da contraltare quella fisica dei milanesi i futuristi milanesi che partecipano a delle dimostrazioni futuriste il 15 e il 16 settembre del 14 quando al teatro dal verme come scrive il Corriere della Sera dopo il primo atto dell'opera noto futurista Marinetti sventolava ad un palco alla bandiera nazionale mandando evviva a Francia e Italia nello stesso tempo altro futurista Carrà agitava da altro palco non una bandiera ma un drappo in forme di piccole dimensioni e due colori che parvero giallo e nero colori dell'Austria di allora adesso è bianco e rosso poiché il Carrà lacerò subito il drappo c'è un'altra dimostrazione sempre in gallerie Vittorio Emanuele noti futuristi Marinetti e Buccione che sarebbe Buccione e altri loro compagni nell'ottagono gallerie Vittorio Emanuele sfoderarono una bandiera nazionale ed altra austriaca gridando viva la Francia viva la guerra a basso l'Austria vennero subito arrestati e portati nelle carceri è in questa occasione ad esempio che vediamo dove siamo no questa è una lettera di balla che manda Marinetti tutta fatta a mano con l'Italia lui è contento per il fatto che finalmente è scoppiata la guerra a luglio del 14 dice bisogna che noi interveniamo ma quello che non interessa adesso è questa è in quell'occasione che Marinetti e compagni concepiscono il famoso diagramma titolato sintesi futurista della guerra con il cuneo contenente alla parola futurismo che si abbatte contro la parola passatismo dalla parte del futurismo sta la lista delle nazioni definite otto popoli poeti e cioè Russia Francia Belgio Serbia Italia Giappone Montenegro Inghilterra ognuna a sua volta definita con le proprie qualità dall'altra invece solo l'Austria e la Germania e la Turchia a loro volta definite nella loro meschinità sintomatico lo zero assoluto per la Turchia questa tavola fu stampata in un volantino e fu diffusa capillarmente per le strade nei teatri nei ristoranti e fu sottoscritta oltre che da Marinetti anche da Boccioni Carrà Russo le piatti e datata dal cellulare di Milano 20 settembre del 14 a novembre cade un fatto importante Benito Mussolini già redattore del giornale socialista all'avanti lascia il giornale e fonda il popolo d'Italia per dare voce all'area interventista del partito socialista italiano di ispirazione repubblicana fatto importante perché sino a quel momento era stato un convinto neutralista cioè portavoce di quell'area contadina del partito che vedeva la guerra come un'inutile strage e che al tempo stesso voleva conformarsi alle direttive e agli interessi sovranazionali dalla seconda internazionale socialista cosa fosse cambiare parere Mussolini e a tanti altri il fatto che la Germania invase il Belgio ovvero uno stato con il quale aveva sottoscritto una dichiarazione di neutralità assoluta in modo tale che nessuno potesse attaccarlo secondo il Belgio fu un'invasione immotivata anche da elementi strategici e senza la minima provocazione per questo la sua eco fu tale da far aprire gli occhi a tantissimi e anche ai più accesi neutralisti come appunto Mussolini ancora in quel che sono neanche all'inizio facciamo 20 ancora in quel momento in quel novembre del 14 Marinetti scrive a Severini a Parigi e lo incita a realizzare delle opere pittoriche perché come sapete Severini che tutti pensano sia un futurista in realtà era un cubista però era la testa di ponte dei futuristi a Parigi e lui comincia appunto a dipingere delle opere questa qui c'è scritto ordine di mobilizzazione generale in attimo ed è una delle prime opere che Severini fa poi ne fa delle altre che vi faccio scorrere veloci così guadagniamo due minuti e mezzo senza parlarne di queste opere ma sono evidenti treno di feriti treno blindato treno della croce rossa eccolo qua il treno blindato e arriviamo al libro di Carrà il famoso guerra pittura che fa parte di un gruppo di libri guerreschi che cominciano a uscire in quel momento ora a parte la copertina come vedete che qualche tempo dopo si potrebbe definire costruttivista però qui siamo ancora nel 15 e il costruttivismo non c'è quindi diagonalismo perché il diagonalismo è dinamismo poi contiene tutta una serie di collage di composizioni guerresche trieste italiane insomma un libro importante che ci porta a un ennesimo intervento di La Cerba mese di marzo del 15 ci siamo? sì ecco qua allora due importanti editoriali di Papini il primo titolato Vergogna e il secondo Le Cinque Guerre in Vergogna scrive che i giornali cominciano a sussurrare che l'Italia si è accordata con la Germania e qui viene a fare un casino perché dice che noi non abbiamo speso la migliore fierezza di questi mesi per andare a cascare in un tanto sconcio mercato perché sembra che la Germania dovrebbe convincere l'Austria a darci Trento e Trieste a patto che noi non l'attacchiamo e per cui loro alla fine dicono si vuole la guerra ma quella vera non quella concordata a tavolino dalla diplomazia a Becera nel frattempo le manifestazioni travestiste continuano coltei pugni qui saltiamo perché è troppo lungo e arriviamo a Giacomo Balla che insomma è il più anziano di futuristi non può mettersi a scazzottare e la sua partecipazione com'è inizia a canalizzare queste idee interventiste in una serie di dipinti cosiddetti patriotici e interventisti così come le stesse cornici sono tricolori ecco questo di tricolore c'è poco perché questo è uno dei primi che si intitola 9 maggio del 15 insidie di guerra ed è un dipinto che rievoca la dimostrazione alla stazione Termini contro Giolitti tornato a Roma per riaffermare i principi neutralisti e in questo caso il concetto di insidia si riferisce proprio all'idea stessa del neutralismo che ha ritenuta un'insidia peggiore della guerra stessa i fatti stanno precipitando qui vediamo altre immagini di balla vedete mi sembra che sia manifestazione in piazza di Siena e così via canto patriottico questa deve essere una manifestazione di fronte al Quirinale del 20 settembre i fatti precipitano e ci sono altre manifestazioni molto molto cruente dove addirittura si spara si grida morte a Franza viva Oberdan le bombe il pugnale bruciamola avanti viva Mussolini parli marinetti transfondati affondati nel più raccrapicciante dimostrazione che si sia mai vista questo che scrive è Cangiullo il 15 marzo la Cerba presentendo presentendo il momento da fondo tutte le sue cartucce con un intenso editoriale intitolato ultimo appello ok che ovviamente incita all'entrata in guerra quello che qui non vediamo così però via censura è una scritta cubitale in quarta di copertina che avverte sua maestà pensi che in molte città d'Italia il grido viva la guerra sia trasformato in quello di viva la repubblica quindi gli danno un segnale a prendere posizione Balla interviene con un altro dei suoi dipinti forme grido viva l'Italia che trae ispirazione dalla manifestazione interventista tenuta proprio a Roma quel giorno guidata dal sindaco di Roma per acclamare a gran voce il re che dal balcone del Quirinale gridò viva l'Italia un grido nel quale si collieva infine tutto l'ardore di una decisione ormai presa poi c'è ancora la Cerba abbiamo vinto perché finalmente si entra in guerra qui vi dispamio altre pagine di citazioni e arriviamo ad Epero che proprio quando sente questa cosa qua scrive una cosa molto forte da appunto il Redento che dice brindiamo raro godimento di questo tempo di tensione elettrica aspettare stupende esplosioni di nostri muscoli volontà morte all'Austria morti tedeschi impicchiamo l'imperatore boom patafum ferocemente gloriosamente combattente trionfare per Trento e Trieste conseguentemente e coerentemente di lì a pochi giorni Depero si arruola volontario e parte per il fronte allora appunto coerenti con quanto scritto affermato urlato e voluto una volta che l'Italia è finalmente entrata in guerra e qui entriamo nel quarto atto è il penultimo tenete duro la guerra dalla teoria alla pratica i futuristi al fronte prima di andare in guerra Marinetti espande il manifesto della guerra facendolo diventare un libro ma qui mi sembra che non lo vediamo ecco questo è il collage interventista di Depero vedete il cuneo italiano l'Austria che si ingobbisce e cerca di resistere e qui vediamo guerra sulla igiene del mondo allora tutti i futuristi tranne Depero che a Roma vanno volontari in quello che era appunto il battaglione lombardo volontari ciclisti automobilisti che fu costituito nel maggio del 15 praticamente li mettono prima gallarate a fare un po' di pratica poi li mandano a Milano a sfilare in centro per trasferirsi verso Brescia il Corriere della Sera dava la notizia del passaggio di 600 volontari ciclisti tra ali di folla festante come fosse il passaggio del Giro d'Italia ed anche del ricongiungimento al battaglione di Marinetti fresco di operazione perché Marinetti aveva un problema di ernia a linguine e l'avevano scartato lui si fu a operare con una bicicletta super e li rincorre e li becca verso Breschiera poi quando i futuristi sono stanziali li passano dei mesi e non succede niente dunque i futuristi a quell'epoca agosto del 15 non avevano visto ancora il nemico nemmeno quel binocolo e quindi l'unico che ci arriva vicino è De Pero che parte da Roma e va al fronte e scrive eccomi in pieno assetto di guerra zaino riboccante a fucile in spalla fasciato vediamo cosa c'era qua ecco qui mentre sta andando al fronte scrive alla moglie delle cartoline futuriste dove dice viaggio commovente lungo sto bene siamo in zona di guerra baci abbracci Polente Cunel e ora eccomi in pieno assetto di guerra dice sto stiamo arrivando a Belluno e cominciamo a scalare qui c'è tutta una descrizione di come lui arriva al fronte di come dorme in una tenda da uno in quattro di quello che c'è fuori che la mattina lo trovano cadaverico e di tante altre cose ma che con dieci minuti neanche se io faccio gli abitamenti carpiati con la lingua riesco a leggervi e ve li leggerete sugli atti ma diciamo che sicuramente dopo il rientro a Roma ed è però l'unico veramente che va al fronte perché le granate scoppiano vicino si sposta di buco in buco arriva in cima al col di lana poi lo scartano perché era magro come un cerino e lo mandano a casa assieme a tanti altri e quando torna da Roma che comincia a fissare l'esperienza del fronte in una serie di disegni e di dipinti guerreschi che poi esporrà nella mostra personale dell'aprile del 16 questi sono alpini ad esempio l'insistenza nelle lettere alla moglie sugli effetti delle granate cioè sul dato pirotecnico della guerra era intracciabile in dipinti come Rom Kraski esplosioni di granata esplosioni giallo nero e tricolore questo l'abbiamo visto anche ieri è quasi appunto una crocefissione ma è un soldato sul reticolato mitraliere e questo è ad esempio esplosioni giallo nero e tricolore guerra osca o ancora come scoppio di granate a tutti i del 15 come si può intuire e vedere a differenza dei disegni che hanno un'attitudine tragica con una tecnica quasi xilografica vicina a esiti espressionisti nei dipinti invece De Pero non dipinge situazioni oppure oggetti o soggetti ma piuttosto il soggetto di questi dipinti è propriamente il suono il rumore dello scoppio che si solidifica e prende forma cromatica e seguendo quel processo analogico preannunciato già in un suo manifesto teorico manoscritto l'anno precedente certo De Pero doveva aver poi anche visto letto il libro di Marinetti per cui Zantuntum le parole che diventano suono e diventano anche quasi una solidificazione della volontà guerresca ma diciamo che sono del tutto particolari perché sono equivalenti fono plastici queste cose qua che li dipinge allora De Pero torna a Roma e comincia a fare queste cose intanto i futuristi li avevamo lasciati parcheggiati ad assenza di Brenzone sul lago di Garda dove il tempo passa non succede nulla insomma per loro questa guerra futurista tanto attesa si faceva appunto attendere dopo un po' sveglia le tre distribuzioni gallette di carne partenza ore 6 cominciano a rampicare vanno su verso addosso casina che praticamente vanno vengono vanno vengono sentono sparare li passano sopra la testa sulle nostre teste fucilate fucilate altro questo è Boccioni che scrive faccio una pernacchia fucilate altre fucilate Sibilo Sirena insomma per loro la guerra era ancora una cosa epica quasi uno scherzo perché di fatto era una cosa vedevano le bombe che partivano dall'altra parte del monte del lago di Garda passavano sopra loro per centrare le posizioni austriache ma di fatto non hanno partecipato fino a questo momento alla guerra vengono accerchiati perché i comandanti non comunicano fra loro insomma si parte tra poco si torna e non succede nulla arriviamo a un certo punto quando c'è il vero attacco di Dosso Casina loro sono lì che aspettano ordine e arrivano questi alpini che dicono che sembrano dei supereroi alti forti muscolosi e gli dicono adesso tocca a noi tornate indietro insomma questa che non avete letto cioè non avete sentito perché l'ho tagliata è la cronaca della presa mancata di Dosso Casina cui i futuristi di fatto non partecipano perché dispersi sui sentieri si sono persi grazie ai loro comandanti che poco sanno di montagne e di carte geografiche per il resto sembra che il loro principale nemico sia stato il freddo anche in questo caso previa di un equipaggiamento leggero più adatto alle pedalate che non alle arrampicate ma non è ancora finita perché il loro congelo sarà oltremodo amaro e infatti a un certo punto gli dicono adesso si attacca veramente ma di fatto li mandano giù li mettono sul treno anche le biciclette perché erano stravolti e non avrebbero mai pedalato si scende si cammina si perde la strada si ritrova si arriva a Malcesi alle 6 di sera sonno letto mangiare qui si conclude con l'allontanamento dal fronte il diario di Boccioni come si è capito è stata un'esperienza dura e anche amara per la mancata gloria di avere effettivamente partecipato all'assalto e alla presa di Dosso Casina perché dispersi sui sentieri di notte e anche per la mancata avanzata verso Riva del Garda in quanto allontanati dalla prima linea perché come si intuisce i comandi militari volevano probabilmente togliersi di torno quel battaglione di ciclisti sfigati volontari improvvisati che erano secondo loro punto di vista più un intraccio che un aiuto quinto ultimo atto dopo Dosso Casina rapido e effervescente la guerra letteraria cronache dall'Italia futurista allora l'esperienza di Dosso Casina fu un fattore cementificante nonostante tutto e rimase lungo quale elemento di memoria di visione di sensazioni nella mente e nell'anima di quel gruppo qui non ho più fatto vedere niente ma vabbè insomma arriviamo qua perché durante appunto la guerra sapete che Boccioni dopo va a Verona e ha una morte poco futurista e poco gloriosa lontano dalla prima linea perché nelle retrovie cade da cavallo e batte alla zucca e finita lì comunque i futuristi trovarono un valido appoggio nel giornale l'Italia futurista che aveva sostituito la cerba in quanto la cerba una volta scoppiata la guerra dice noi il nostro compito l'abbiamo concluso campagna interventista adesso basta di fatto non essendoci più nulla da dire la cerba ha chiuso allora questo giornale che vedete l'Italia futurista di cui qui io ho steso pagine e pagine di citazioni anche di eccitazioni ve lo risparmio lo leggerete negli atti perché vi sono degli articoli carini interessanti anche surrealisti ad esempio in un numero imprecisato vediamo c'è persino un articolo di Armando Zanetti o meglio un'intervista al futurista russo Klevnikov intitolato futurismo italiano e futurismo russo dove Klevnikov dice che ogni 1387 anni come dimostra un'esperienza di ben 20 volte deve cadere un impero nel 17 dovrà cadere sotto i colpi della Russia l'impero germanico che 1387 anni prima era caduto l'impero dei vandali cioè oggi sapendo come è andata in Russia questa cosa qui diventa quasi surrealista perché in realtà è caduta la Russia nel 17 e così via poi c'è il discorso di quando muore Boccioni che balla fa questa cosa qui che viene ricordata poi c'è il Marinetti ferito e viene pubblicato qui è l'originale che è della famiglia Marinetti mentre quello pubblicato è in bianco o nero è un ritratto parolibro Marinetti ferito viene dipinto usando lettere come vedete da questo che è un giovane di 14 anni Pasqualino Cangiullo il 24 ottobre come sapete del 16 mi pare sì quello che è non sono uno storico comunque l'Austria scatena la strafe Expedition un'offensiva senza precedenti ed è interessante che l'Italia futurista invece parlava di offensiva italiana non si avrò mai passati dice che l'Italia futurista dice l'avanzata austro-tedesca è giunta davanti a un simbolo il tagliamento quest'ultimo sforzo del nemico non sarà che un'inutile parata di gala cioè questo esce paradossalmente dopo lo sfondamento di Caporetto ma siccome era quindicinale era stato scritto prima ma diventa anche questo un colpo un autofondamento quasi il finale in pittura è per tutta una serie che ci guardiamo adesso di pitture fatte da futuristi anche non necessariamente al fronte uno di questi è Baldessari che sta a Padova e vede passare avanti e indietro le tradotte questo è il treno di feriti e la stazione di Vicenza ad esempio galleria di Milano con le bandiere alleate quindi questo è la ricaduta nella memoria di visione della guerra sia di chi è stato al fronte sia di chi l'ha vissuta nelle retrovie pattuni in grigio verde quelli che andavano a portare gli ordini da una parte all'altra scoppi di granata e trincee questo ce l'avevamo in copertina a un nostro libro ovvero qualcosa di immane e balla che perde il colore per strada perché si rende conto che siamo nel 16 che la guerra in realtà sui pennelli sta stendendo solo lacrime e sangue e questo è velo di vedova tutto grigio perché la vedova ha il velo sugli occhi e il paesaggio assume questo questo grigiore dipinge anche questo quadro che avete già visto più volte che alla guerra e poi chiudiamo con la danza della mitrellatrice di Gino Galli un altro giovane che vedeva nella mitrellatrice una danza elegante ed eroica finché non l'hanno steso appunto in una trincea e vediamo come si può chiudere con una frase epocale sì ecco poi c'è Sironi anche lui Emilio Notte questo è Sironi che prediligia gli aerei la bomba la Zatkova ecco questo voglio dire due parole sulla Zatkova l'opera più intensa della ricaduta della guerra nella pittura futurista lei Rujena Zaktova che era una circoslovacca nel 20 che poi sarà vicino al cognato di Marinetti sentimentalmente realizza questo basso rilievo in metallo dipinto di grigio acciaio come quello dei cannoni che è una specie di conglomerato di forme stravolte e come fuse tra loro membra umana pezzi di cannone pezzi di trincea che è una specie appunto fuse da da un'esplosione e che ha creato a sua volta una forma del tutto nuova anzi un'informa un mostro il titolo è il mostro della guerra pochi anni dopo verso il 1925 ne darà una versione invece ludica questo si intitola guerra festa fortunato De Pero che oggi quest'opera è la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma e non è come alcuni hanno frainteso perché sapete che il futurismo è stato letto per più anni non sui documenti ma sulle tessere dei partiti di chi scriveva non è come è stato più volte frainteso l'ennesima celebrazione guerra fondaia ma piuttosto la testimonianza trasposta sul piano della felicità cromatica di come anche e purtroppo la guerra si è divenuta un gioco divertente per bambini in tutto il mondo si giocava la guerra e di come nell'immaginario infantile nel quale De Pero si è sempre immedesimato un passaggio del suo manifesto del 1915 diceva ricostruire l'universo rallegrandolo la guerra possa essere esorcizzata proprio dal gioco che la sdrammatizza e riesce ad andare oltre alle proprie posizioni a volte incancrenite con la finzione e tramite la finzione ritrovare un dialogo la guerra futurista finisce qui ultimo siamo qua la guerra futurista finisce qui sulle stoffe colorate di De Pero tutto sommato con un messaggio di speranza cioè che al di là dei disastri della guerra possa aprire anche a nuove consapevolezze per le future generazioni ma che ciò in realtà non sia avvenuto e sotto gli occhi di tutti va bene allora grazie a Maurizio Scudiero per la recitazione quasi futurista della sua relazione se ci sono delle domande domande angoscianti salve se si può dire due parole sulla cucina futurista e sui collegamenti tra Marinetti e Jules Minkave che era questo cuoco futurista francese io l'avrei anche scritto ma siccome il titolo del convegno è arte avanguardia grande guerra la cucina futurista arriva nel 31 non capisco il collegamento il collegamento è perché Jules Minkave in realtà operava prima della guerra mi chiedevo se lei non se ne sa molto in realtà no veramente confesso che non sono io dico sempre non bisogna uscire dal seminato i tutologi sono pericolosi per cui non lo sapevo della cucina futurista ho seguito il fatto che c'era a Torino il famoso ristorante e lì è nato anche il gruppo Filia Marinetti di quelli che hanno scritto il libro che è uscito nel 31 però devo dire che prima di quello cercherò altrove grazie lo stesso grazie dimmi anche perché altrimenti se ci mettevo dentro con la cucina mi impalavano io invece avevo una domanda di carattere più letterario diciamo siccome mi interessava molto anche il periodo di la cerba e i rapporti papini soffici nel carteggio tra papini e soffici emerge abbastanza chiaramente come poi papini che pure era il direttore di la cerba e quindi era quello che dava la linea in realtà la linea diciamo geopolitica e diplomatica la dà soffici a papini cioè di papini a certo punto se ne va perché c'è questo attrito appunto e poi c'è l'attrito anche soprattutto con i futuristi milanesi che cominciano degli interventi contro interventi sul giornale che da una parte serve una linea dell'interventismo e dall'altra arrivano articoli di marinetti contro i socialisti perché dice che non sono abbastanza quelli interventisti non sono abbastanza interventisti uno di questi articoli è famoso perché il titolo è socialisti o sozzalisti punto di domanda e lì comincia un attrito anche fra i futuristi e la direzione di la cerba di fatto a un certo punto non vi saranno più articoli di marinetti o di altri futuristi se non del gruppo fiorentino ma la cerba va fino alla fine con la sua campagna interventista ecco quindi la domanda era su papini nello specifico lei ritiene cioè io trovo significativo che poi papini nel 21 scriva una storia di Cristo e quindi si riconverta al cattolicesimo in qualche modo da cui pure proveniva a livello familiare anche se in maniera assolutamente secondaria c'è un elemento religioso nel futurismo secondo lei e se sì dove? non proprio all'inizio però l'elemento religioso paradossalmente viene fuori dopo viene fuori all'inizio degli anni 30 29-30 quando il futurismo che prima privilegiava la velocità terrestre il treno bicicletta motocicletta il cavallo alla fine degli anni 20 sull'esperienza dell'aviazione italiana che stava mettendo successi in tutto il mondo di distanza di altezza di velocità e se si pensa che nel 30 Balbo prima va in Sud America e poi va a fare la trasvolata nord americana Chicago New York una cosa che ha sconvolto tutti gli stati maggiori del mondo che si sono fatti qualcosa nei pantaloni che non ho visto sta cosa perché ha detto se gli italiani partono da Orbetello e vanno fino a Chicago e atterrono puntualmente sul lungo lago con 27 aeroplani per fare una promozione del regime se invece fanno 100 aeroplani carichi di bombe possono arrivare dove vogliono quindi questo è stato un dato molto significativo come messaggio strategico ma per Marinetti il messaggio era un altro dire adesso noi dobbiamo cambiare il punto di vista nel 29 lui scrive assieme ad altri il manifesto dell'aeropittura quindi l'aereo diviene il mezzo per un nuovo senso di visione dall'alto e cominciano a fare dei dipinti di abitamenti soggettivi perché gli aeropittori volano e poi fanno queste cose ma allo stesso tempo nasce anche un elemento cosmico il distacco della terra il distacco dalle contingenze terrestre da tutte queste eliti che vengono viste lontane piccoline provoca appunto l'inserimento di un senso cosmico religioso e fra aeropittura idealismo cosmico e un passo e breve nasce l'arte sacra futurista con tanto di manifesto anche questa e siamo tutto nel 30 31 32 poi bisogna dire che nel 35 36 con i coinvolgimenti in Africa e in Spagna la aeropittura cambia drasticamente l'aereo non è più il mezzo per acquisire nuove visioni nuovi stati d'animo ma diviene il soggetto di pitture di guerra tipo bombardamento in Africa bombardamento in Spagna quindi si passa alla terza la quarta fase futurista di questi giovani goliardi che nel 22 quando è nato il fascismo avevano 2-3 anni e che quindi sono cresciuti praticamente inconsapevoli che ci potesse essere un'altra possibilità di vita io vi faccio un esempio personale brevissimo perché spiega spesso più di tante cose i giudizi affrettati del dopoguerra mio padre nel 43 era a Cefalonia e gli tedeschi hanno chiesto di mollare le armi loro si sono rifiutati sono scappati a nord sono andati a finire in braccio i titini campo di concentramento una volta al mese ne tiravano fuori uno a caso gli italiani dovete morire così apertura della pancia tutte le budelle fuori lasciate sul piazzale a un certo punto dopo 3-4-5 mesi chiamano quello vicino a lui e lui diciamo anche lui ha dei problemi di stomaco a vedere sta cosa e allora se ne esce con una frase dice guardate che io vengo dal paese di Tito lo riempiono di botte lo mettono in una cella al buio per 10 giorni poi lo tirano fuori li mettono una benda lo mettono su una camionetta 8 ore su e giù per le montagne alla fine è sbendato viene inserito in una tenda e c'è Tito cos'è sta storia allora dovete sapere che dove è nato Tito e dove sta Rovereto mio papà e la mia famiglia era tutto Austria quindi la gente si spostava per motivi di lavoro cioè mio nonno quando andava a Verona negli anni 60 diceva vado in Italia perché è vero che c'erano i veridentisti ma guardate che a Rovereto c'era la corrente elettrica in tutte le case nell'860 l'acqua potabile nel mio 840 l'analfabetismo ero lo 0,1% se stavi a casa due giorni da scuola arrivavano i gendarmi col chiodo c'è molta gente di essere liberata non ne voleva sapere fra parentesi allora lui praticamente Tito Broz Josip Broz la famiglia viene da è un toponimo di un paese che si chiama Brozzi ed è a 12 km di Rovereto sì non è vero lui le ha detto ti libero perché anche tu sei come i nostri trentini tu sei un trentino non liberato ma conquistato vabbè comunque alla fine della guerra lui rimane dentro fino al 47 47 attraversa il mare Adriatico e si trova gli americani che gli fanno l'interrogatorio e gli chiedono tante cose domanda finale epocale lei nel passato regime era fascista o antifascista e lui gli dice guardate io sono del 16 nel 22 avevo 6 anni cazzo potevo salire di non essere fascista ho fatto tutto i figli della lupa Balilla giovani avanguardisti per noi era normale non avevi la possibilità di capire che non potevi essere fascista sei cresciuto così con il lavaggio del cervello o potremmo dire nella normalità allora gli hanno dato una pacca sulla spalla gli hanno detto facciamo la foto perché finalmente abbiamo trovato un fascista in Italia abbiamo trovato solo partigiani risalendo alla penisola quindi questo spiega anche i giudizi anche sul futurismo la terza generazione futurista è quella più becera sono quelli più aderenti che partecipavano a queste mostre a tema le mascelle volitive del Duce il discorso del Duce la radio il premio Cremona e questi sono quelli che hanno poi fatto sì che ci fosse un giudizio ideologico per molti anni senza guardare i documenti perché teniamo conto che quando finisce la prima guerra mondiale e chiudo Marinetti si ritrova che Boccioni è morto Sant'Elia è morto Carai è metafisico Severini è tornato in Francia a fare quello che ha sempre fatto il cubista apre a 180 gradi tira dentro di tutto quindi tira dentro i futuristi giuliani che sono collegati con Zenit i futuristi torinesi che erano tutti comunisti ci sono quelli napoletani attivisti distruttivisti siciliani ce ne erano molti che sono andati al confine perché comunisti la rivista Blay è stata una cosa così marginale ma per dire che il futurismo aveva dentro tante anime certo c'erano anche i fascisti però c'erano due anime principali la linea filogovernativa di Marinetti che serviva anche a capitalizzare di prendere lavori per fare le commesse pubbliche è la linea che si riconosceva negli ideali del futurismo ma non in Marinetti quindi un universo una galassia difficile da catalogare semplicemente come fece Antonio Trombadori quando ci fu una mostra di Venezia più che futuristi erano squadristi cioè quella fu una banalità io quando ho lavorato per dieci anni al giornale Belpietro mi ha dato l'ok per un articolo a doppia pagina che si intitolava TOH punto esclamativo tra i futuristi spunta un manipolo di comunisti sottotitolo la storia dell'arte si fa sui documenti non sulle tessere sei mesi di polemiche ma i fatti sono quelli va bene allora un quarto d'ora di break e poi riprendiamo con le ultime due relazioni grazie quanto abbiamo sporato grazie a tutti grazie a tutti